Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in A1 in uscita a Firenze Sud, proverendo da Bologna, sulla Firenze Mare, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Prato Ovest e BV111, tutto verso Firenze e in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandiccia, ancora una volta verso il capoluogo. Segnaliamo Nevischio sul tratto appenninico della A1 e ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali su gran parte della Toscana. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario. Per una variazione al turno materiale rotabile, il treno regionale 3102 Grosseto-Firenze è cancellato nella tratta iniziale Grosseto-Livorno. Viaggiatori con treno a seguito 3132. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!